Cosa? Devo prendere tutto. Ma tutto cosa? Cos'è che vuoi? Ma io niente. Ma tu chi sei? Gengis Khan. Gengis Khan? Sì. Ma come Gengis Khan? Aspetta, Tiger. Tiger o Gengis Khan? Cazzo non mi ricordo. Come non ti ricordi? Gengis. No. Temujin. Temujin. No, non mi sembri Temujin. Porca troia. Aiutami, ti prego. Ti ho permesso di aiutarmi. Dai, grazie. Aspetta un attimo. Gengis. No. No. Chi cazzo sei? Goldrick. No, non c'entri un cazzo con Goldrick. Batman. Sei Batman? No, ma non c'hai la faccia da Batman. Prima eri il Messia, però. Sì. Io sono... Sei il Messia? Sono colui che ha creato il nulla. Il nulla? Sì. E se è nulla non l'hai creato, però? No, certo. Hai fatto una cazzata? Poi siete... Siete... Hai fatto una cazzata? Hai creato il nulla? Sì. E no, hai fatto una cazzata? No, non ho fatto una cazzata. È per forza. Se è nulla. Se è nulla. Uomini di merda, bastardi. Beh, allora sì, figa. Bastardi! Chi è che sono? Uomini di merda. Chi è che sono? Uomini. Uomini. Guarda che c'è... Figa, la madama. Fa niente. È passata la madama. Ascolta un attimo. Dimmi. Tu mi devi aiutare. E come cazzo faccio ad aiutare? Tu dai il permesso. Mi dai il permesso per aiutarti? Ascolta. Ehm. Minchia, ma quanti cazzo di orologi e cazzi hai? Ehm. Ecco quello rosa. E cosa faccio ad quello rosa? Aiuto. Eh, dai tutto qua. Sì, qui dentro c'è. Cosa c'è lì dentro, in quello rosa? Non lo so, te lo devi prendere te. Ti devo dare qualcosa. No, non posso. Ma non puoi darmi qualcosa, cazzo. Ti devo regalare qualcosa. Ma no, non voglio niente, cazzo. Non voglio niente. Non voglio niente. Però non riesci a portarti via Yamaha. Lì è un casino. Quella Yamaha lì. Non mi ricordo. Cazzo fai in giro alle quattro del mattino, cazzo. Deve avere una missione per me. Sì, ce l'ho la missione. Devo andare. Ascolta, io sono della fabbrica del sorriso. Ah, ecco. Aiutiamo i bambini sordociechi. Ah. Questi sono tutti i gioielli e i swarovski. Sì. Valgono un capitale. Eh, certo. Certo. Allora, siccome questi bambini qua... Sono sordi e ciechi. Eh, guarda, vuol dire vivere nell'oblio. Io ogni volta te li vedo, credimi. Sei male. Eh beh. Adesso andiamo sulla tenerezza. Vai. Vabbè. Sai cosa vuol dire per un bambino sordo cieco? Eh, certo. Vivere nell'oblio. Ma tu pensi che loro sono infelici. No, no. Invece loro sono felici. Sai perché? Col tatto. Ah. Allora io faccio questo. Swarovski ci dà, ancora a me me li deve dare, comunque. Adesso me li dà circa 150 chili. Di cosa? No, di più. Aspetta. Ma sicuramente... Gioielli Swarovski. Gioielli? Non è che ti dà qualche... 150 chili di qualche altra roba. Ascolta. Eh, stai bestemmiando. No, no, vorrei che... Sai chi è Swarovski? Chi è? Tu non sai chi è Swarovski. No, chi è Swarovski? Swarovski è il padre... Sì. E il padre? I gioielli più belli del mondo sono quelli di Swarovski. Eh certo. Vedi questo qua che c'ho io? Quello lì? Questo bracciale qua. Eh sì, è Swarovski. È tutto ciò che mi vedi di Swarovski. Io questi gioielli qua li regalo. Eh certo. Certo. Vabbè giusto. Ascolta, noi chiediamo soltanto, per esempio, vedi questo? Questo qui è una meraviglia. Certo. Ma scusa, ma aspetta un attimo, tu adesso hai cambiato discorso però. Eh sì, ci sono. Perché tu ti dovevi portare la Yamagale. Sì. E volevi le chiavi dimmi di quella moto. Sì. Che non ci sono. Ci sono. Ma tu non ci vedi dove cazzo vai se non ci vedi con quella moto? Tu mi hai detto non ci vedo. Ascolta. Eh. Io vedo benissimo. Vedi? Perché io sono quello che vi ha creato. Bastardi di merda che non siete altro. Veramente. Voi siete nulla. Anch'io. Tu. E che cazzo c'entro io? Stai zitto. Adesso io no cazzo dai. Così mi stai offendo. Tu sei così tanto carico di energia. Io sento tante energie. Eh minchia ma vedi sei quanta energia che sei scendo cazzo. Ce n'è un botto. Sì, vedi Giulio. No ma no veramente se scendo ce n'è troppa di energia dopo. Ascolta io ho bisogno di te. Lo so ma no minchia ma se scendo credimi. No no non salire. Perché lo sai io scendi tante energie viene fuori dopo da me ma tanta. Non so. Minchia ma energia proprio che. Non vuoi dire a me io so chi sei. No ma lo so. Eh lo so. Aspetta. Minchia esce tante energie. Aspetta. Che credimi. Aspetta stai zitto. Ti prego so chi sei. Un chiamino chiamiamo l'energia. Aspetta. Aspetta. Aspetta che mi chiamiamo l'energia un pochettino. Aspetta. Ascolta io e te faremo delle gare. Ma stai scherzando? E che gare? Stai zitto. Aspetta. Guardami. Kevin. No. No aspetta un attimo sei bellissimo. Chi cazzo sei te? Io e te pure facciamo delle gare. Delle gare in che cosa? Io con una McLaren. Con la McLaren? Sì. Allora tu sei un pilota di Formula 1? Certo. Allora cazzo ecco chi sei. No. No Formula 1. Di che cosa? No. Perché io corro in Formula 1? No. Tu non corri in Formula 1. Ogni tanto? Eppure ti do la merda. In che senso? Anche Formula 1? Io guido l'F40. L'F40? E tu sai cosa guidi? Eh? Guiderai una Bugatti. No la Lamborghini. Ah sì bravo. È vero? Bravo. Ascolta. Quando tu verrai qua. Certo. Io ti darò la merda. Ma sicuro? Ma qua? No no. Facciamo qua la corsa? No no. A Grattosoglio. Ah pensavo in un'abbiata glassa. Tu verrai prendi un'abbiata glassa. No facciamo tutto a biata glassa. Poi andremo nella tua villa. Bravo. Enorme. Poi prenderai. Sì. 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 Poi là ci sarà. Ogni tanto. La tua. La tua donna di servizio. No non c'ho la donna di servizio. C'è l'amante. Una. Neanche. polveri di servizio. Che cazzo c'hai? Sei pieno di figlio. Non c'ho un cazzo. Ma che cazzo? Manca una figa. Ma vai affantino. Porca di quella troia. Ascolta un attimo. Quando verrai qui a Grattosoglio. Certo. Aspetta. Verrai con la macchina che preferisco io. Il Porsche GT3. E cazzo c'è la Lamborghini. Devo vendere le Lamborghini. Ho le chiavi del Porsche. Adesso vendo la Lamborghini e compro la Porsche. No. No. La Porsche. Sì. Sono io che ti. È mia. Ah è tua. Ah quindi me la dai a me. Sì. Io ho le chiavi del Porsche. Perfetto. Guarda. Dove cazzo sono? Eh no. Non ce l'è più. Magari là dentro. Dove c'è io quelli della Yamaha. Perché qua è tutto tuo. Ce l'ho io le chiavi del Porsche. Cazzo. Qua è tutto tuo cazzo. E tu. Le chiavi del Porsche ce le ho io. Le vuoi vedere? Dove ce le hai? Qua. questo è il turno notte ragazzi. Questo è il turno notte. Preciso. Vai cazzo. Le vuoi vedere? Fa. Minchia no. Ce l'hai? No no. Minchia no. Quello lì no. No. Aspetta un attimo. C'hai dentro tutti i tipi di chiavi lì dentro. Sì. Porca puttana. Fai zitto. Eh sto zitto cazzo. No minchia. Pure la chiave del Porsche c'hai. Poi dice che di notte non ci divertiamo. Wow. Ti dico che ho le chiavi del Porsche. Porco Dio. Questa che cos'è? Cos'è quella lì? Fammi vedere. Il Porsche. Eh cazzo. GT3. GT3 con la luce. Sì. Con quello lì apri. Aspetta un attimo. GT3. Sì. Guarda. Questa è la mia macchina. Sì. Questa è la mia macchina. Quella lì. Quando tu verrai. Sì. Io vi dirò questa. Sì. E tu la. 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 La McLaren. Ma no cazzo. Minchia però non ti ricordi. O la Bugatti. Minchia. Quello della. Della tigre. Lo Jaguar. Quella della tigre quale? L'uomo tigre? Sì. Io sono l'uomo tigre. Ma come sei l'uomo tigre? Io sono il tigre. Dai. Forza dai. Minchia se sbagli mi incazzo come una bestia. Tiro fuori tutta l'energia che ho eh. Cos'hai fatto? Una scureggione. Non era l'energia? Sì. Hai scelto così? Sì. Ah la butti fuori così l'energia? Ecco la devo buttare fuori. Eh minchia è brutta. Con la scureggione. Ascoltami un attimo fratello. Non mi farei tirare i coglioni perché ti stacco la testa dal collo. No. Ascoltami. La testa me la stacchi? Aspetta. Io sono che scero bello. Ecco chi sei. Io scendo ti spacco tutto. Ecco chi sei. Cazzo. Ecco che scero. Minchia c'ho le sette stelle. Sì. Eh. Sì. Minchia c'ho sette stelle e tre minchie. Sì. Sette stelle e tre minchie. Sì. Sette stelle e tre minchie. Sei un chiamatore. Vieni dai. Sei un forno. Fammi vedere l'energia. Ti ho l'energia cazzo. Bastardo. Minchia. Bastardo. E allora sì sei che scero. Bastardo. Minchia però aspetta hai tirato fuori troppa energia così. Stai tirando fuori l'energia adesso svieni. Hai visto? Io non svingo. Non si sa mai. Ascolta un attimo che in sciro. Dimmi. Andiamo nel tuo castello. Sì. Nella tua villa in oro. Adesso faccio una cosa. Io faccio una cosa. Come devo andare? Perché mi stanno chiamando per una missione. Anch'io? No. E non puoi venire. Ascolta. La missione è impossibile. Ascolta mi fratello. Ci vediamo dopo? Dai. Oh. Oh. Io passo da qua. Oh. Oh. Guarda che passo da qua dopo io. Ti devi fare trovare. Non ti è che ti stacco la testa. No. La testa adesso no. Ma sei troppo bello. Passo dopo me la passi troppo. Dai. Oh. Ci vediamo dopo. Barronsini. No. Ascolta. 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 Vado a fare questa missione. Mi vieni a prendere con la. Guarda. Arrivo subito. Mi vieni a prendere con la. Adesso faccio questa. Porca puttana. Devo scappare. E allora la vai a fare in culo. E fa cazzo. Fammi andare. Tira fuori l'energia. Tira fuori l'energia. Bastardo. Dai fammi vedere lui. Tiri fuori l'energia. Fermo. 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 Non toccare. Bastardo. Non toccare. Vai lì. Vai fuori. Guarda che. Guarda che esco eh. Esco con l'energia. Esco con l'energia. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni fuori. Vieni qua. Sei bellissimo. Dai che vado va. Ascolta. Devo andare. Devo passare il bar a Rossini domani. Dove? Ci vediamo lì dai. A Rossini. A Rossini dai. Aspetta non mi ricordo. Ciao bello. Devo scappare. Ma è vero. E veramente. Devo andare per forza. A tutti i costi. Ciao. Ciao. Minchia questo è pazzo. Questo non me lo devo perdere. Sti cazzi.